Qua io non me la prenderei con la debolezza dei controlli, io qua me la prendo con la pochezza della responsabilità di chi vive all'interno delle istituzioni, dei ruoli di responsabilità e che non si fa garante delle persone più vicino a lui. Questo è il problema. Guardate, alcuni anni fa era emersa, grazie all'attività dei giornali, quello schema della lottizzazione delle aziende sanitarie. La lottizzazione ha in sé un male gravissimo, che il soggetto deputato alla responsabilità dell'amministrazione dell'azienda sanitaria si sente di dovere qualcosa a qualcuno, di avere un referente che gli garantisce qualcosa. Anche quest'anno, dove è stata introdotta, grazie all'opposizione, la selezione attraverso i test, subito dopo, selezionati i soggetti, vincitori di quella selezione, i partiti della maggioranza si sono subito messi a dire questo è mio, questo è tuo, questo è suo. Questo è il male. Di questo Maroni è responsabile perché è qualcosa che succede oggi sotto i suoi occhi, sotto la sua responsabilità, grazie alla sua indulgenza. C'è qualche pezzo della maggioranza che pensate di coinvolgere nel voto di sfiducia? Questa maggioranza è una maggioranza che sta assieme grazie al potere. Niente di più. Non sta assieme grazie ad un ideale, tantomeno sta assieme grazie a un progetto. sta assieme solo ed esclusivamente in relazione al fatto che se uno di loro si sfida cadono tutti e quello che si sfida non ha la certezza di essere preso da qualche altra parte per poter continuare a esercitare il potere. Quindi io non penso proprio che nella maggioranza possa esistere qualcuno così libero da poter capire che è il momento di sfilarsi e di togliere la spina a questa maggioranza in Regione Lombardia. Dal sistema Formigoni, ormai si è passati al sistema Lega di Salvini e Maroni, mi sembra abbastanza evidente. Sei inchieste, non è l'opposizione brutta e cattiva, ci sono sei inchieste che dicono che c'è un grosso problema in Regione Lombardia di trasparenza, di correttezza negli appalti, incapacità di eliminare le zone opache, i conflitti di interesse, il sistema degli appalti sotto soglia. Mi sembra che sia un problema enorme che non riesce a trovare soluzione.